All'ombra delle pale di San Martino, nella Valle del Vanoi, dal 9 all'11 settembre, tre giorni dedicati al Re dei Bosti, il Porcino. Festa delle Brise 2011, nona edizione, con mercatini, mostre, escursioni, degustazioni, concorsi e spettacoli, in compagnia di Beppe Bigazzi. In Valle del Vanoi, dal 9 all'11 settembre, Festa delle Brise, la tua vacanza e informazioni su sanmartino.com